Cosa è mancato in queste due partite dal punto di vista, non so, del risultato? Secondo me fare un'analisi è difficile, nel senso sicuramente bisogna dare molto di più su qualsiasi aspetto. Però io credo che ci è mancato oltre la partita di Cosenza, che comunque sia abbiamo preso tre gol calcio di punizione o calcio d'angoli. Io credo che comunque sia anche un po' di fortuna, si sta a girare male, è un momento così, si sta a girare male. Sicuramente dobbiamo dare del nostro per far sì che le cose cambiano, ci vuole un po' di pazienza. Senti, chiedevo già anche al tuo compagno, una brutta partenza, un brutto periodo, al di là dei risultati sul campo, come si esce da questa situazione, anche dall'interno dello spogliatoio? Io credo che in questi casi l'unica forza che abbiamo è lo spogliatoio. È l'unica forza che abbiamo perché è lì dentro comunque sia che si preparano la gara, che nei momenti di difficoltà ci possiamo dare una mano tutti. Quindi questo è il momento, è il momento in cui bisogna stare uniti, bisogna lavorare, lavorare anche tanto, su tutti i punti di vista. è nulla, bisogna fare più punti possibili adesso. Grande confusione, adesso è arrivato il terzo allenatore della stagione, come tutti quanti noi ci auguriamo che sia un'ottima cosa. Voglio dire, cosa pensi che vi possa dare, se magari non vi hanno dato chi li ha preceduti? Io credo un assetto di gioco un po' più mirato, un po' più specifico, quello sicuramente. Poi è una persona che comunque si è allenato, non sto a dire io l'ho allenato, però sicuramente è allenato in grande società, anche di categoria superiore, e quindi sicuramente ci può dare una tranquillità che ci manca, una tranquillità che ci manca a noi. Ben sempre, difesa 4 durante un giro, poi improvvisamente difesa 3, ciò non toglie che comunque, soprattutto in difesa ci sono tante difficoltà, poi anche magari rettate dall'ancanza di diversi elementi al centro campo, non lo so, la squadra che fa fatica anche dal punto di vista della produzione. Che cosa si può fare per non viaggiare più immigliato? Perché poi immagino che il lavoro sarà lungo, complesso, però la sensazione di traballare un poco quando avevano palla in aria, anche se si è fatto un po' meglio rispetto alla partita con Cosenza, si è avuto anche il pancambio di pazzo. Io credo che l'unico aspetto è avere un po' più di fortuna, perché se tu vedi fondamentalmente è vero che abbiamo preso 4 golli di palina attiva, però ci è girata anche male, probabilmente se al primo tempo facciamo gol, al primo tempo pigliamo il calcio di rigore, poi voi lo sapete meglio di me, le cose cambiano, anche l'aspetto umano, nel senso di affrontare la partita, secondo me cambia. A 10 minuti dalla fine sicuramente ci siamo abbassati un po' troppo e quando ti abbassi naturalmente può capitare che una palla messa dentro, un qualcosa di sbagliato, sicuramente c'è stata una disattenzione, si possa prendere gol. Però ciò nonostante, credo che il miglior metodo è lavorare, se abbiamo preso gol e le palle inattive significa che dobbiamo lavorare più su quell'aspetto. Sì, due cose. La prima cosa vuol sapere, non mi sei piaciuto contro il derby, mi sei invece piaciuto molto a Francavilla. È solo una questione di posizione leggermente diversa tra le due partite o magari quando, insomma, è cose che capitano durante... Io vi posso dire che comunque sia non gioco da tanto tempo. Sicuramente il campo a me mi dà nel senso più gioco meglio è. Quindi sicuramente erano quasi sei mesi che non facevo una partita e sicuramente col Cosenza, anche a livello organico e tutto, il primo tempo sono riuscito a trattenerlo bene, sul secondo ho avuto un po' di fatica. Però già da domenica mi sono sentito abbastanza bene, già all'80-85 minuti sono riuscito a tenere bene. Poi è normale, perdi 3-0, perdi 3-0 fanno male tutti, vinci 2-0, hanno fatto bene tutti, pareggi, stai lì. L'altra cosa che ti voglio chiedere è proprio questa. Vista il tuo percorso, anche con purtroppo i vicini, come ti senti? Credi di poter essere, insomma, una pedina stabile di questo garanzaro? Io credo che comunque sia bisogno vedere domenica per domenica, nel senso che poi il mister fa le sue scelte, come è giusto che sia, però io cerco di dare sempre il massimo, cerco di impegnarmi su ogni allenamento, ogni partita, ogni singola azione, cerco di impegnarmi al massimo. Quello è una cosa che non possono dire di tutto, tranne che non mi impegno, perché veramente do il cuore e l'anima su qualsiasi cosa. Ma come ti senti? Fisicamente credi di essere prestiti prima degli incidenti? No, ma non credo che... È solo un fatto di tempo. Credo che si può benissimo ritornare come eri prima, non c'è problema. Il domenica arriva la figlia di Santi, di una squadra che ha un determinato impianto di gioco, già verlo dato dall'anno scorso, anche se stanno hanno cambiato il mister, però hanno più o meno la stessa formazione, ha messo in difficoltà in Catania, ha messo in grandi difficoltà anche oggi in casa, la prima. Non il Catanzaro ancora invece deve farmi di strada per diventare una vera e propria squadra, quali possono essere le difficoltà più grandi? Secondo me sicuramente l'approccio alla partita è la cosa più importante su qualsiasi, poi adesso con l'Andrea, però per qualsiasi partita l'approccio è la cosa più importante. Secondo me portare punti significa cancellare il 10% della sconfitta di Cosenza e col Francavilla. Quindi io credo che a giorno d'oggi l'unico metodo per star meglio anche per le prossime partite è fare punti, bisogna fare punti perché sennò andiamo a casa tutti e basta, bisogna fare punti. Anche perché sennò diventa, anche se è prestissimo attualmente, ma comincia a diventare la passifica, anche perché partire male potrebbe provocare una serie di guasti anche durante il terzo settembre. Guarda, io un anno solo ho giocato, stavo in Romania, che era come qui, praticamente ci stavano su 25 giocatori, eravamo in 20 nuovi. Posso dire che comunque sia anche lì all'inizio abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo fatto quattro sconfitte consecutive, però dopo ci siamo ripresi. Poi siamo arrivati e noi eravamo un po' più ultimi, ci eravamo ultimi, però poi ci siamo ripresi. Questo cosa significa? Che comunque sia il gruppo, so che comunque sia la tifoseria è esigente e tutto, però il gruppo bisogna aspettarlo. È una cosa brutta da dire, ma bisogna aspettarlo. Secondo me la società ha le idee chiare su questo, e posso dire che non ce la mettiamo tutta.